Grazie. Sindaco, lei ha detto che speriamo di avere un colloquio anche con i vertici nazionali della CGL, oltre a quelli locali che già interloquite. Spesso che cosa si aspetta? Io ho un rapporto ottimo con Maurizio Landini, quindi credo che si può fare un bel lavoro tra la CGL nazionale, la città di Napoli e la città metropolitana. Noi siamo disponibili, anche perché credo che Napoli sarà strategica per il futuro del nostro paese. Quindi questo dialogo è importante, lui ha dimostrato anche sempre attenzione per questi territori, dalle battaglie sul Comigliano, con la FIOM, ma anche su altri temi a difesa del diritto della città a decidere. Quindi sappiamo di trovare un interlocutore attento e sensibile.